Mandi amici furlansi in collegamento con la convigna annuale dell'ente Friuli nel mondo di Usof e mandi a tutti gli amici dell'ente Friuli. Mi presento, io sono Daria Miani, io sono una maestra di lingue furlane che l'anno passata è stata mandata dall'ente Friuli nel mondo e dal gruppo folkloristico di Pazian di Prat a Vesaneda di Santa Fe in Argentina per portare in davanti un progetto di lingue e di tradizioni furlansi. L'anno passata in presenza e ho vinc imparato danze, cancone, filastrochi, giùx, lingue furlane con schedi operativi con gli autori di educatori su nevore bravi. Anche quest'anno il progetto deve partire, ma la situazione Covid ho saputo che non ha permette la partenza. Dunque ho deciso, insieme con gli educatori, di provare a proponare un laboratorio online con queste tante conosciute ed operative che stanno didattiche a distanza. Dunque in diretta streaming ogni lunedì, mercato e venerdì, dai 6 di lui fin ai 16 di lui, si mettevano in collegamento con una plateforma, ai nostri 6 e migliaia, ma alle loro 1 e migliaia dopo di mesi dì. Ho intratato tanti argomenti e questi fantasmi hanno fatto meravigli, perché hanno imparato tanti in pochi lezioni, in pochi lezioni. C'è che per solito chi in friul si imparano anche due anni forse. Ho imparato a presentarsi, ho imparato a dir con il cassone, da la cassone a sta, con indicazioni anche ben precisi dei poesti. hanno imparato a dir la età, dunque hanno imparato i numeri, i colori, hanno imparato a dir c'è molto che sono fatti, per poter imparare a descriversi, per poter descriversi da chiave fino ai piedi. a fin di questo laboratorio i frutti ci manderanno un bellissimo video, due a che dimostreranno ci che hanno imparato in questo laboratorio. C'è molto che viene chiamato, che viene chiamato vacanze in rete per due motivi. Il primo è perché la rete, anche se non si ha permesso di mettersi in collegamento streaming, ovvero l'Argentina in casa ha due centimetri da mio nas, una cosa straordinaria, unica. ma vacanze in rete perché ho immaginato la rete come una unione di persone, unibili, di una stessa passione che è scorta al sangue di Furlans a Torpa al mondo. Queste amicizie non spè dal 1999, quando anche il gruppo folkloristico di Pazian di Prata avevano parlato alle partite per prima volta in Argentina per fare un viaggio di musiche e di canzoni furlani. E sono arrivati. Difatti i laboratori in presenza hanno passato al previo di avere anche le danze. Quest'anno in presenza, il fatto di noi essere in presenza, è un po' obbligato a non poter imparare le danze, ma il gruppo folkloristico di Pazian di Prata che ha contribuito con il tuo video per poter imparare le danze a distanza. Ho avuto una sorpresa per tutti voi altri senza convincere, i frutti del laboratori e di vacanze senza rete hanno gusto di farvi un saluto, una bella sorpresa per voi altri. Mandi! Mandi a mis furlans a torno al mondo e mandi a mis i telefriuli. No, ho sinistruz dal laboratori, vacanze senza rete. E ho volent salutar du qui a mis furlans a torno al mondo e du qui a mis i telefriuli. Manipulare! . . . Grazie a tutti